Ciao a tutti e bentornati sul canale o benvenuti se questo è il primo video che state guardando io sono Francesca e sono una beauty blogger e nel video di oggi voglio mostrarvi i lip swatch dei cream lip stain di Sephora, anche i miei rossetti liquidi preferiti ma prima di iniziare a mostrarvi tutte le range vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video noi ci vediamo qui su It's Francifra ogni giovedì dopo questa premessa finalmente parliamo dei cream lip stain di Sephora che sono seriamente i miei rossetti liquidi preferiti da quando li ho provati anni e anni fa non li ho più abbandonati tra l'altro anche sul blog ho realizzato una recensione dei primi due rossetti che ho provato sia lo 01 e il numero 13 che forse sono anche i colori che sono i best seller ma perché sono anche tra i primi che sono usciti quindi ve le lascio qui nella descrizione se siete curiosi di leggerle i rossetti i cream lip stain già dal titolo diciamo dal nome sono dei rossetti liquidi cremosi quindi la texture è molto molto cremosa e forse sarà anche quello che li rende molto confortevoli sulle labbra io li indosso tutto il giorno e vi assicuro che non mi danno fastidio seccano pochissimo le labbra hanno una lunghissima durata nel senso che rimangono intatti per quasi tutto il giorno ovviamente se si mangiano quasi troppo oleose ovviamente il rossetto si scioglie ma ben venga perché altrimenti vorrebbe dire che gli ingredienti non sono tanto ecco che vanno bene per le labbra negli anni come vi dicevo sono uscite tantissime colorazioni e anche diversi finish infatti al matti si sono aggiunti quelli metallizzati e anche effetto glossy che però io non ho provato l'unico metallizzato che ho provato è questo che è il numero 115 lasciatemi un commento perché sono curiosa di sapere se anche voi amate follemente i cream lip stain e quale colorazione avete perché io vorrei appunto aggiungerne qualcuna alla mia collezione nel video di oggi vi mostro le 9 nuance che io possiedo ovviamente come vi dicevo ne sono uscite tantissime negli anni ci sono colori che vanno bene per tutti e anche pazzi perché ci sono colori tipo l'azzurro, il marrone, il nero quindi diciamo che accontentano veramente tutti e sono super felice di vedere che vengono aggiunti sempre nuovi colori perché io li adoro con le mente sono tra i rossetti liquidi che io preferisco anche per il prezzo perché costano veramente pochissimo 10,90 euro cioè niente praticamente e la qualità prezzo è eccezionale ho provato rossetti liquidi che costano anche il doppio ma nessuno è veramente come i cream lip stain io direi di lasciarvi ai lip swatch direi che vi ho parlato fin troppo di questi rossetti liquidi vi lascio appunto alla dimostrazione sulle mie labbra fatemi sapere quale colore vi piace di più e spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo presto nel prossimo video un bacio ciao 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 ciao